Per quanto riguarda la genetica ormai è un crescere giorno dopo giorno, quindi la genomica ormai dopo aver fatto un sondaggio sulla linea maschile stiamo puntando di valorizzare sempre più l'attività della genomica sul ramo femminile, anche perché lì si inizia a monitorare ancora meglio e nel dettaglio la razza nell'ambito delle sue prospettive del futuro.